Qual è la sua posizione quando si parla di religione? Ogni cittadino che vive in un paese dell'Europa, membro dell'Unione Europea, deve portare rispetto a ciò che dice la Costituzione, ma ogni paese deve portare rispetto alle tradizioni culturali di ogni cittadino. Pensiamo che sia un diritto basilare di tutti i cittadini che vivono nell'Unione Europea di avere la possibilità di credere a ciascun Dio che vogliono e poter andare nel luogo di culto. E pensiamo che sia molto, possa essere molto pericoloso un'ondata anacronistica e conservatrice che vediamo in Europa, specialmente quando questo riguarda scontri sulla religione. E voglio approfittare di questa occasione e dire che è anacronistico e anche conservazione ciò che vediamo in Spagna, con le leggi che vietano l'aborto, che ci fanno tornare moltissimi anni indietro nei momenti della maggiore conservazione del dittatore Franco in Spagna. È uno sviluppo che dobbiamo impedire e dobbiamo dare una lotta in tutta Europa per questo, fare una lotta.